Il mercato delle auto sta vivendo una fase di continue trasformazioni e, inevitabilmente, sta risentendo di una crisi globale in grado di toccare tutte le corde sociali ed economiche e il mercato delle auto sta vivendo una fase di continue trasformazioni e, inevitabilmente, sta risentendo di una crisi globale in grado di toccare tutte le corde sociali ed economiche e il mercato delle auto sta vivendo. Alcune grandi aziende, però, hanno dimostrato ancora una volta di essere in grado di reggere l'urto di qualsiasi problema, di qualsiasi onda anomala, e anzi, di rilanciare se stesse. Alcune grandi aziende, però, tra queste, senza dubbio, tutte le volte, però, Fiat ha saputo evitare trapoloni e cadute, anzi, ha saputo rinnovarsi, rilanciarsi, rinforzarsi, senza mai perdere mercato, né forza, anzi, irrobustendosi anche con pianificazioni strutturali di ampia portata. E se sul fronte societario le note trasformazioni hanno potenziato il brand, a livello prettamente industriale e produttivo le innovazioni e le strategie di rinnovamento hanno sempre segnato il S sul fronte di conseguenza, a beneficiarne è il settore commerciale. E non è un caso che spesso è solo la Fiat. Tra i tanti grandi competitor mondiali, la casa automobilistica che è in grado di conseguenza, a beneficiarne Fiat si è resa capace di mettersi a pari dal punto di vista dell'offerta economica. La differenza, in questo caso, la poi, sta al mercato e sceglie. Di certo, questa offerta è su di quale parliamo. Quella di un prodotto, un'auto, iconica, storica, una vettura da non perdere, e non solo perché ha un prezzo imbattibile, e che durerà ma proprio perché è un'auto eccellente.